Tra campionato e mercato ricomincia il cammino del Teramo con un'altra trasferta, stavolta si va di mola dopo il successo contro l'Avispesaro. È arrivato Cisco, l'ultimo acquisto in ordine di tempo in casa biancorossa. Teramo che, come ammette lo stesso Guidi, adesso anche per merito della società ha cambiato un po' le direttive rispetto all'inizio della stagione. È diversa perché sono cambiati gli interpreti e chiaramente sono cambiate anche le direttive societarie perché abbiamo affrontato il girone d'andata dove noi dovevamo raggiungere oltre risultati sul campo ma anche l'obiettivo del minutaggio ed è chiaro che le scelte erano fatte in maniera differente. C'è ancora a proposito di mercato la questione Mungo da risolvere. Per il resto la formazione dovrebbe essere quasi confermata, quella che ha battuto l'Avis sabato scorso. Perrucchini tra i pali, dubbio in difesa tra i due centrali, uno tra Kodromac e Pinto potrebbe non essere confermato. Sugli esterni vanno Mordini a sinistra, Aziosmanovic a destra, in mezzo ovviamente Arrigoni con De Grazia e poi davanti il tridente. Malotti e Bernardotto ci saranno sicuramente da vedere chi giocherà sul lato sinistro dell'attacco. Bianco-Rosso. Mi aspetto di fare una prestazione importante perché è iniziato il girone di ritorno e sappiamo dell'importanza di ogni singola gara, le partite sono sempre meno e quindi è chiaro che ogni pallone va giocato con grande mentalità, con grande importanza perché può essere un pallone decisivo per raccimolare dei punti e farci raggiungere i nostri obiettivi. Quindi mi auguro e spero, per come ho visto anche la squadra in settimana, continuare a fare delle prestazioni buone. Imolese è avversario ostico, diverso dalla vis di sette giorni fa. Ci si aspetta una gara in cui la formazione di Fontana terrà alto il pressing, la pressione sulla prima costruzione del termo e proprio per questo Guidi richiede attenzione ai suoi. Mi aspetto una partita che può avere il sopravvento, la squadra che riuscirà a pressare meglio, che riuscirà a coprire la palla meglio e soprattutto che riuscirà a vincere la costruzione contro la prima pressione avversaria. Penso che la squadra può avere la meglio nella partita. La squadra che costruisce meglio. Ultimo pensiero è proprio per l'ultimo arrivato. Cisco che va a rimpolpare l'attacco del Teramo. Guidi lo conosce molto bene. È arrivato oggi, ha fatto appena una rifinitura. Andrea è un ragazzo che io conosco molto bene perché l'avevo seguito quando avevo la nazionale Under 20. Lui all'epoca era a Padova. Quindi è un ragazzo che conosco molto bene e poi vediamo. Insomma, ripeto, mancano due giorni alla fine del mercato e questo per oggi non deve essere la nostra attenzione, non deve ricadere sul mercato ma su quella che è una sfida estremamente importante. e questo per oggi non deve essere la nostra attenzione,